Non sto a commentare le reazioni dei giocatori, io esultavo. Onestamente io sono andato al sodo in una precedente intervista, nel senso che ho detto che ne avremmo parlato a febbraio. Non c'è solo Di Bala, abbiamo altri rinnovi, per rispetto è giusto citarli, che sono Quadrado, sono Perin, Bernardeschi che è un campione europeo ed è sciglio. Quindi è giusto parlare di tutti quanti, ho sempre detto a febbraio ci prenderemo il nostro tempo per sedesse e parlare con tutti. Buonasera, grazie. Si presenta come il vero talismano in questo senso. È stata la serata che aspettavate per trovare anche in attacco quella continuità che magari era mancata. La solidità difensiva era stata trovata, qualcosa davanti mancava. È stata la serata giusta? Sicuramente abbiamo fatto una bella partita, non era facile perché arrivare allo stadio con pochissime persone, dopo una bella partita che abbiamo fatto domenica, siamo stati bravi. La squadra ha fatto una partita giusta, siamo andati offensivi, siamo stati bravi. Devo dire che tutti i ragazzi hanno fatto una bellissima partita, siamo contenti perché ci tenavamo molto a passare il turno perché come sempre la Juve gioca su tutti i fronti e per noi è importante anche, molto importante la Coppa Italia. Temevamo molto questa partita ma abbiamo avuto l'atteggiamento giusto perché l'atteggiamento nel calcio è determinato. Sono stati tutti molto bravi. Una squadra attentissima anche nelle marcature preventive, questo l'abbiamo sottolineato anche in Telecronica. Ha giocato poco di bala ma era la reazione che vi aspettavate? Ha ceduto il pallone per il rigore a Morata per fare un esempio, ha trascinato anche il pubblico, ha esultato sul gol. Ma Paolo sta facendo molto bene, siamo contenti del suo rendimento. L'apprendimento è stato determinato in queste partite come lui deve fare sempre. Ha avuto la sfortuna che si è fatto male e l'abbiamo perso per tante partite perché se si è a squadra nessuno lo dice però ha avuto l'infortuna di Chiesa, credo che abbia fatto 18 partite su 29 in compresa la Champions. Paolo pure, Danilo che è rientrato oggi ha fatto 60 minuti, è stato fuori tante partite. Federico, come ho detto, anzi colgo l'occasione per fargli un grosso in bocca al lupo per la sua operazione, l'aspettiamo presto e questa vittoria, anche se è una piccola cosa, la dedichiamo a lui. Però l'aspettiamo presto da noi, forza Federico che passerà anche questa e sarei più forti di prima. Studio. Alessio Tacchinardi. Ciao Marco, una battuta su Alleghi, visto che hai vinto due partite su due, domenica San Siro, un posto in tribuna, lo mettiamo lì e così vai magari a vincere anche a Milano che non sarà facile. No, complimenti. Volevo chiederti, dicembre è stato il mese delle partite tra virgolette facili ma non sono mai facili in Serie A. Io a gennaio ho detto o la Juve ne esce con Roma, Napoli, Inter, Udinese, adesso questa Coppa Italia, o con le ossa rotte o ne esce rafforzata. Mi sembra che questa squadra in questo mese ne esca rafforzato. Cosa è cambiato in questa squadra rispetto ai primi mesi? Come ho detto prima, l'atteggiamento. L'atteggiamento è importante, abbiamo fatto tante partite con l'atteggiamento giusto, anche quando ci mancavano dei giocatori e l'abbiamo fatto bene. L'atteggiamento è importante, poi chiaramente vincereci da fiducia. Sono d'accordo con te quando dici che le partite bisogna vincere sul campo, con quei discorsi facili. Partite facili non ci sono, anche perché abbiamo visto che abbiamo perso più punti, diciamo fra virgolette, che poi non sono piccole perché il Verona è una bellissima realtà, le Empoli pure. Sono partite che abbiamo perso con l'Udinese, che non meritavamo, però sono punti che abbiamo perso con le piccole, ci siamo detto questo, ma l'unica cosa, come ho detto l'altra volta, che conta è il lavoro, la voglia, l'atteggiamento che abbiamo avuto, lo ripeto, l'atteggiamento è troppo importante per me e lo stiamo avendo, la continuità stiamo avendola e dobbiamo parlare poco e fare con i fatti. Domenica abbiamo una partita molto difficile col Mila, però bella da giocare, sulle partite che ti danno sempre qualcosa in più, però è una partita molto difficile contro una grande squadra, però andiamo là e faremo la nostra partita come sempre. Grazie.